Lunedì 9 settembre, buongiorno da Liberato Ferrara, buongiorno dalla redazione di Per Sempre Napoli per la rassegna stampa quotidiana. Questa è la tranche che riguarda il Napoli, lo diciamo subito, non ci sono notizie, il mercato è concluso, gli azzurri riprenderanno solo oggi gli allenamenti in vista della partita di sabato contro la Sampdoria, quindi fondamentalmente c'è quella che per fortuna è una non notizia, si era sparsa la voce di un infortunio per Elmas nel ritiro della Nazionale, la notizia poi è immediatamente rientrata, pare che il ragazzo non abbia nulla di preoccupante, bene così perché soprattutto a centrocampo la situazione è quella che è, il Napoli ha gli uomini contati, la mia impressione è che non abbia neanche gli uomini contati, però volendo considerare Zielinski e Fabian Ruiz centrocampisti a tutti gli effetti, anche in un centrocampo a due, è chiaro che il Napoli può contare solo su quattro centrocampisti perché poi nonostante possano essere impiegati fuori ruolo, in un'altra posizione, gente come Callecon e Iunes sicuramente non sono centrocampisti, ma questo è un altro problema. La notizia è che Elmas sta bene e quindi è una notizia fortunata, buona. Questa è la prima pagina del Corriere dello Sport nell'edizione campana, la prima pagina Reclerc, che poi non lo analizziamo in questa parte della conferenza stampa, ma è un titolo che è piaciuto molto, l'ha fatto identico anche alla Gazzetta dello Sport, poi c'è il richiamo sulla Nazionale, in ottica a Napoli ci sta Maradona che fa cantare la plata, e poi la notizia che il presidente dell'Inter e De Laurentiis sono in lotta tra di loro per un posto all'interno dell'Eca. Ok, andiamo avanti, e poi l'altra notizia abbiamo detto di Elmas che sta bene. Napoli, anzi a Elmas, voglio esserci, il giocatore sta bene, tutto a posto, si era sparsa questa notizia ieri molto preoccupante, però come detto il tutto è rientrato. In basso Lozano, tutto il reparto da show, e sono le prime discussioni su quelle che sono gli assetti tattici, soprattutto in ottica per la formazione per sabato, Lozano sembra essere destinato a essere l'unico titolare sicuro, mi sembra poi assurdo che gente come Insigne e Mertens, che hanno tirato la carretta per anni, e che tutto sommato hanno cominciato anche bene la stagione, siano stati immediatamente messi da parte, passati in secondo ordine, Lozano è un buon giocatore, però ha giocato con la maglia del Napoli 45 minuti in un momento in cui il Napoli ha giocato benissimo, vediamolo quando è tra qualche tempo, e vediamo se davvero nelle gerarchie è lui il titolare inamovibile, tutto deve ruotare intorno alla sua figura. Andiamo avanti, in delirio per Diego, vi daremo la vita, Maradona è il nuovo allenatore del gimnasio, ovviamente quando si muove Maradona c'è sempre di tutto, c'è Buenos Aires impazzita per il ritorno dell'idolo argentino, personaggio straordinario, calciatore unico al mondo, e quando dico unico, unico in tutta la storia del calcio passata, presenti ai metemmo futuro, a temo per il calcio, un altro Maradona non ci sarà, come allenatore non ha fatto niente, diciamoci la verità, ha avuto l'occasione nel 2010 con la nazionale, ha fatto benino, ma non benissimo, ma era una nazionale fortissima, è vero anche che chi è venuto dopo di lui ha fatto, se possibile, ancora peggio, una nazionale basata su Messi che non è un leader vincente, e comunque, niente, c'è grande attesa per Maradona, allenatore, il gimnasio sicuramente non avrà preso il miglior allenatore su piazza, ma da un punto di vista mediatico ha fatto un colpo straordinario. Andiamo ancora avanti, il derby Zelazang per un posto a Lega, che cosa vuol dire? Che il presidente del Napoli e quello dell'Inter si sono candidati entrambi per un posto all'interno dell'associazione tra i club più importanti d'Europa, De Laurentiis è molto esperto, ormai ha 15 anni di calcio alle spalle, non possiamo perdere se capisco meno di calcio, però da un punto di vista organizzativo, è molto molto esperto, si è preso molti consensi in questi due anni in cui è stato responsabile dell'ufficio di comunicazione e marketing dell'Eca e si è ricandidato, ha posto la candidatura anche Zang, il nuovo presidente dell'Inter, i due sono proprio agli opposti, uno settantenne, estremamente effervescente dal punto di vista dialettico, l'altro 27enne, poco esperto e che centellina le parole, però ha una grande esperienza nella Suning, che è un gruppo mondiale e quindi potrebbe fare bene anche all'Eca, i due sono in lizza per un unico posto, potrebbero anche arrivare a un accordo, cioè la butto lì, De Laurentiis resta inizialmente, poi può toccare al giovane presidente dell'Inter, un ricambio generazionale che chiaramente ci può stare. In basso la notizia che riguarda il Napoli in maniera indiretta, non in questo momento, nuova Champions in U di troppe gare e il posto fisso. Sulle troppe gare secondo me c'è poco da fare, il futuro è questo, si andrà verso un aumento delle partite di Champions che portano soldi, il posto fisso è da vedere, è chiaro, faccio un esempio, che se al posto dell'Atalanta ci fosse stato il Milan in Champions o anche la Roma, le cose sarebbero andate molto meglio per la UEFA, però togliere completamente l'importanza dei campionati nazionali non è possibile, quindi credo che le troppe gare della Champions aumenteranno in futuro, ci saranno più partite che garantiscono più soldi. Sul posto fisso è probabilmente anche giusto che sia così, no, le squadre dovranno conquistare il loro posto attraverso il campionato, peraltro con gli introiti della Champions non è difficile allestire squadre che poi possono primeggiare anche nel proprio campionato. Andiamo avanti, Gazzetta dello Sport, Leclerc, lo stesso titolo del Corriere dello Sport, non c'è nulla sul Napoli, il pezzo sul Napoli, i dubbi di Ancellotti, cercasi maggiore equilibrio. Ora, a me non piace dire l'avevo detto io, fondamentalmente non è vero, tutti quelli che dicono che diciamo l'avevo detto io provano un grande soddisfazione a poter rimarcare una cosa, la storia del maggiore equilibrio del Napoli, una storia che nasce da lontano perché non ci voleva uno scienziato per capire che questa rosa così come è costruita non era in grado di garantire equilibrio alla difesa. Adesso lo stanno scoprendo tutti dopo sette gol in due partite che sono veramente uno sproposito e bisogna andare a vedere dove intervenire perché l'idea di un centrocampo a quattro è chiaramente la più semplice da realizzare, si potrebbero valorizzare al meglio Fabian Ruiz e Fabian Zieninski oltre ad Allan e poi c'è sempre da chiedere il sacrificio a Callecon, io direi che lo schema migliore per il Napoli è il 4-3-3 con Callecon che si abbassa poi in fase di non possesso, però la mission di Ancelotti è quella di cancellare anche il ricordo e le cose buone di Sarri, una squadra costruita per giocare 4-3-3 può giocare in tutti i modi tranne che il 4-3-3, vediamo quello che succede e comunque la Gazzetta dello Sport ha scoperto che serve equilibrio al Napoli e con la pagina della Gazzetta dello Sport abbiamo concluso con... ah no abbiamo ancora Tutto Sport, scusate, questa è la prima pagina di Tutto Sport, il Sport è rarissimo e più o meno poi dice a Raffaele Auriemma nel suo pezzo in basso dice più o meno le stesse cose, Napoli troppi colli incassati, poi non è che lo dice Raffaele Auriemma o Mimmo Malfitano sulla Gazzetta, lo dicono i numeri e quindi anche per la Gazzetta dello Sport c'è questa ricerca del nuovo equilibrio che è a mio avviso difficile da conquistare adesso con la rosa a disposizione perché non si può trovare equilibrio senza avere uomini di equilibrio comunque questa è la mission di Ancelotti che ha detto che questa rosa è da Scudetto, un mercato da 10 io non credo che lo pensi, però lo pensa o non lo pensa, l'ha detto e quindi adesso deve dimostrarlo con i fatti e con questo abbiamo davvero concluso l'appuntamento con la rassegna stampa sul Napoli e per domani Grazie a tutti